Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà del 2023. Grazie. Ragazzi, abbiamo il matto. Periodo di nuovi inizi, molto probabilmente la seconda parte dell'anno. Il matto è una carta che mi parla di una rinnovata fiducia. Può essere una fiducia in voi stessi, una fiducia nella vita o nell'universo in generale. È una carta che mi parla di viaggi, per qualcuno si potrebbero anche trattare di trasferimenti o dislocazioni dovute al lavoro, ma andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. È proprio una guida. Trovate il link al video che vi parla della sezione degli abbonamenti, quindi di che cosa trattano i video esclusivi per gli abbonati. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, la prima linea, ragazzi, riguarderà la crescita spirituale, la seconda linea l'amore e gli affetti, la terza linea sarà per il lavoro e l'economia e l'ultima linea in fondo sono poi dei consigli aggiuntivi. Per ognuna di queste linee ci sarà poi un video di approfondimento dove spiegherò queste carte con i mini tarocchi. Ok, allora ragazzi, iniziamo con un fante di spade al contrario, la carta dell'imperatrice, un cavaliere di pentacoli, un asso di bastoni al contrario e un tre di bastoni al contrario. Dunque ragazzi, qui ho come l'idea, vedendo queste due carte iniziali, che abbiate bisogno nella seconda parte del 2023, di sviluppare un pochettino di più quello che è il vostro ruolo materno all'interno di una situazione o direttamente nella vostra vita. Ho come la sensazione che siate stati educati o che siate abituati a controllare molto con questo fante di spade al contrario. Normalmente il fante di spade è la carta di colui che tiene d'occhio quello che succede in giro. Può anche essere che qualcuno abbia questo tipo di atteggiamento, abbia sviluppato questo tipo di atteggiamento per doversi occupare come una mamma di qualcuno. Questo è quello che avete sviluppato in passato. La vostra, diciamo, missione nei prossimi sei mesi è proprio questa imperatrice, cioè l'imperatrice collegata con il quarto chakra, con l'amore, l'amore per gli altri intendo. È collegata anche con tutto quello che è la compassione, come una madre ha per i propri figli. Ma questa sensazione potrebbe essere, questo lavoro insomma da fare potrebbe essere sia nei confronti degli altri ma soprattutto nei vostri confronti. Come se aveste bisogno di amarvi un po' di più, di essere una madre migliore per voi stessi. Di sicuro avendo questo cavaliere di pentacoli sarà un percorso lento, un processo che piano piano si deve sviluppare. Però ho anche la sensazione che siete già, come dire, instradati in questo tipo di lavoro. Ripeto, con il cavaliere di pentacoli è un lavoro che si sviluppa in modo lento, però è anche vero che è un lavoro concreto, cioè che vi porta poi a mettere mattone su mattone proprio per dare inizio a questo cambiamento. Qui vediamo, abbiamo l'asso di bastoni al contrario, che parla proprio di inizi, ok? Quindi qui è un po' come se nel prossimo 2023 avessi bisogno di preparare il terreno a livello spirituale, vi dico, per dare poi inizio a questo asso di bastoni e a questo tre di bastoni a girarli, insomma. Quindi ad andare verso quello che è un nuovo inizio, un nuovo modo di viaggiare all'interno della vita, un nuovo modo di navigare le situazioni che vi capitano. È un po' come se vi dicessero giudicatevi di meno e amatevi di più. Il lavoro che sarete portati a fare nel prossimo 2023 riguarda un pochettino quello, diciamo l'uscire da quello che è dualità, il giudizio, giusto o sbagliato, ma semplicemente prendere atto che avete quel determinato lato, fa parte di voi anche quello, ed è giusto abbracciare anche quel lato lì che magari non ci piace tanto, o perdonarci o avere compassione di noi stessi per certe cose che magari si sono fatte in passato e che non riusciamo a perdonarci appunto. Questo è un po' il movimento diciamo a livello spirituale, andiamo a vedere a livello relazionale, partiamo con un 6 di bastoni al contrario, un asso di denari, il re di pentacoli, un 10 di pentacoli e un cavaliere di coppe. Tanti denari ragazzi! Allora, devo dire che per qualcuno ci potrebbe essere qualche questione inerente alla famiglia di origine da dover affrontare che potrebbe essere un pochettino deludente. Andremo poi a vedere negli approfondimenti se è la situazione in sé che non ha molti sbocchi, oppure se è proprio la relazione con una persona nello specifico. Però avendo tutte queste carte di pentacoli ragazzi, le sento concrete le relazioni che inizieranno o che diciamo continueranno nella seconda parte del 2003, che inizieranno perché abbiamo un bellissimo asso di denari. L'asso di denari è un inizio concreto, abbiamo anche poi un re di pentacoli e un 10 di pentacoli, quindi stabilità, concretezza. 10 di pentacoli sono anche le firme dei contratti, quindi potrebbe essere che qualcuno faccia un contratto per magari cambiare casa o per andare a vivere insieme, per creare una famiglia. Sta di fatto che a livello relazionale ragazzi c'è la possibilità, se non siete già in coppia, c'è la possibilità di iniziare una nuova relazione, c'è la possibilità che questa relazione sia concreta e che porti veramente a quello che è un potenziale sviluppo, diciamo. E devo dire che, allora, se avete figli potrebbe essere una persona che conoscete in una situazione legata agli hobby dei figli, tipo se vostro figlio va a calcio, ipotesi, potrebbe essere un genitore di qualche altro bambino. E così anche se avete una figlia, diversamente se non avete figli, potrebbe essere che in un viaggio, in un percorso, in un ritrovo, in una riunione con qualche vostro amico, per qualcuno potrebbe essere magari in un matrimonio, dovete partecipare a un matrimonio all'interno di questo festeggiamento, di questa festa, potreste incontrare una persona. Adesso andiamo avanti, vediamo anche le altre due linee, perché poi nell'ultimo linea ci sono dei consigli che potrebbero venirvi utili anche nella sfera delle relazioni. Se avete già una relazione, se siete già all'interno di una relazione stabile, è come se ci fosse un nuovo inizio per dei nuovi progetti, qualche cosa che rende ancora più stabile la relazione, ok? Come se ci fossero dei nuovi sogni all'orizzonte. Andiamo a vedere la situazione lavorativa. Allora, partiamo con un tre di coppe, un fante di pentacoli, un due di coppe, la luna, l'imperatore e poi qui abbiamo un sette di spade che della linea dopo. Dunque, devo dire che, ragazzi, potrebbero esserci delle questioni economiche legate dell'eredità, delle divisioni di beni tra fratelli o tra cugini che potrebbero darvi delle noie. Se non fosse il vostro caso, ho come la sensazione che nella seconda parte del 2023 inizierete a pensare a che tipi di investimenti fare, a che tipi di accordi prendere per, diciamo, migliorare il vostro stato economico, ok? Se foste senza lavoro c'è la possibilità di iniziare un lavoro nuovo o di cambiare lavoro o se siete, per esempio, autonomi è come se ci fosse la possibilità di allargare il giro d'azione, di magari approcciarsi a un nuovo prodotto, a un nuovo servizio, a una nuova collaborazione. C'è la possibilità di espandersi. Nella seconda parte del 2023 c'è questa luna che un po' preoccupa perché parla sempre di proiezioni, considerato che avete anche il fante di coppe. Fate attenzione a non farvi trasportare troppo dalle emozioni, sia quelle positive che quelle negative. Però devo dire che alla fine della linea abbiamo un bellissimo imperatore, ragazzi. L'imperatore è una carta che parla di abbondanza, prosperità, solidità, di qualcuno che ha costruito un impero perché si è dato da fare, perché si è dato delle regole, perché come un apprendista ha seguito diligentemente tutti i passi necessari per arrivare al successo, alla costruzione di questo impero. Quindi ragazzi, devo dire che la parte economica per il prossimo 2023 sarà ben abbondante. Nuove collaborazioni, nuovi prodotti, espansione a livello monetario, movimenti per aggiustare quello che potrebbe essere il patrimonio di famiglia. Andiamo a vedere qualche altro consiglio che ci danno. Andiamo a vedere l'ultima linea. Allora, era già 7 di spade, temperanza. Abbiamo il re di bastoni, 5 di bastoni e 6 di spade. Così si vedono meglio. Allora ragazzi, questo 7 di spade è un po' preoccupa. Perché? Perché c'è anche la luna. Quindi attenzione alle false promesse. Attenzione alle vostre proiezioni, perché quando c'è la luna avete la percezione della realtà che è al 50%. La luna viene illuminata solo per metà, l'altra metà è in ombra ed è quello che voi non vedete di questa situazione. E tenete presente che avendo anche 7 di spade può essere che non sappiate tutto di una determinata situazione. Guardate, ho più la sensazione, vedendo anche questo orfante di spade, che siate voi che abbiate determinate proiezioni. O per qualcuno si tratta di un avvertimento di fare attenzione a quello che potrebbe essere un eccesso di avidità. Avere più sicurezze, avere più cose materiali, avere più contratti. Avere, 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 per paura di rimanere senza, la paura. Devo dire che comunque se ci fosse qualche questione un po' spinosa, se vogliamo, come vi avevo detto prima, sia sul livello familiare che anche a livello magari un po' di amicizia, perché ci potrebbe essere qualche battibecco, niente di che, è solo un 5 di bastoni, però ci potrebbe essere qualche, diciamo, distrazione. sento che è come se ci fossero delle lotte o con degli amici o con dei parenti, appunto, che potrebbero distrarvi un attimino nel vostro percorso di ascensione, ma niente di che, insomma. Comunque avete l'imperatore, da un punto di vista concreto, sarete ben, ben forti, ben, con delle basi solide, ok? Qui abbiamo però un 6 di spade e arrivo di nuovo a questo 7 di spade, alfante di spade al contrario. Qui c'è bisogno di pulire un pochettino la mente, dalle proiezioni e dalle paure. Allora, un esempio di proiezione è, vi faccio un'ipotesi, a voi non piace, non lo so, il carciofo, per esempio, no? E quando un'altra persona mangia il carciofo, automaticamente vi viene a dire, come fai a mangiare quella cosa lì? È cattivissima. E supponete che l'altro stia facendo uno sforzo per mangiare quella cosa lì. Mentre magari all'altra persona il carciofo piace. Quella è una proiezione. Si pensa che quello che è valido per noi sia valido anche per tutti gli altri. Qui c'è da pulire questo tipo di meccanismo mentale. Adesso poi, ripeto ragazzi, lo andiamo meglio a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta questo 7 di spade, però anche quando c'è questo 5 di bastoni, fate sempre attenzione a quello che vi dicono le persone intorno a voi. Voi fidatevi sempre solo di voi stessi, perché quando i consigli arrivano da altri, sono comunque filtrati dalle esperienze e dalle credenze di quella persona. Quindi non è detto che una cosa che sia valida per quella persona è valida per voi, e viceversa le proiezioni. Come se voi voleste fare questo nuovo prodotto, iniziare questo nuovo percorso di studi, perché potrebbe anche essere per qualcuno che ci sia un nuovo percorso di studi. Lo vedo più, allora, terra, ho visto della terra, quindi potrebbe essere qualche cosa inerente a dei fiori, delle piante, orto. Magari c'è qualcuno che vuole fare la scuola di agronomia, non lo so, cose per lo stile. È una macchina da cucire, mi hanno fatto vedere. Quindi per qualcuno è una macchina da cucire, o comunque qualche cosa che ha a che fare con il fare con le mani. Quindi potrebbe essere un nuovo hobby, un nuovo percorso di studi, appunto, anche a livello pratico. Per qualcuno, se fosse per esempio il discorso della terra, potrebbe anche essere una questione legata al conoscere e coltivare le erbe naturali per usarle a fini terapeutici. Poi, che altro vi posso dire? Allora, ragazzi, ci sarà una persona in particolare, potrebbe essere un uomo, indipendentemente dal sesso che voi avete, o come la sensazione è che potrebbe esserci un uomo che potrebbe essere fortemente un amico, o comunque nel vostro circolo di amicizie, che potrebbe in qualche modo aiutarvi a gestire delle questioni da un punto di vista organizzativo. È come se, uscendo una volta a cena, o comunque partecipando a una cena e parlando con questa persona, a un certo punto vi dicesse, ma perché non fai così? E a voi si accendesse una lampadina. Interessante. Da un punto di vista fisico, ragazzi, vi sento proprio bene. Nel senso che, se avete avuto acciacchi fino ad adesso, se c'è stato qualche problema di stagione, o qualche questione magari legata all'ansia, piuttosto che, diciamo, qualche questione un pochettino più astratta, quello che sento è che con questo matto ve lo lascerete indietro. Nella seconda parte del 2023 la salute sarà molto migliore rispetto alla prima parte del 2023, anche perché vi sento più sereni, vi sento più... Come vi posso dire? Imparando a diventare madre di voi stessi, aumenterete l'amor proprio. Di conseguenza sarete più sicuri, starete meglio in toto, al 100%, da un punto di vista mentale, emotivo e anche fisico. E soprattutto quando c'è il benessere sia mentale che emotivo, il fisico un po' risponde, no? Quindi è in quel momento dove si dice che state godendo veramente di buona salute. Se c'è qualcuno che ha affrontato delle cure o delle terapie, o come la sensazione è che verranno lasciati indietro nella seconda parte del 2023, perché non ne avrete più bisogno? Vediamo che altro vi posso dire con un oracolo. Poi, come ripeto ragazzi, andremo ad approfondire meglio linea per linea, però vi lascerete proprio indietro certe insicurezze e certi modi di pensare, io sento. La seconda parte del 2023 vi aiuterà a fare una sorta di switch mentale. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Wow, carta numero 35, cuore fedele, bellissima. È la carta delle anime gemelle ragazzi, o perlomeno a me vibra così, perché è proprio come se facessero la forma di un cuore. Le anime gemelle sapete che io non penso che siano solo le anime romantiche, ok? Anzi, ci sono molti amici, molti fratelli che potrebbero essersi incarnati con noi in questa vita ed essere proprio la nostra anima gemella. Bellissima carta. Poi abbiamo la tribù, carta numero 8, e qui è un po'... Anche questo ci metterei qua vicino. Perché questa carta vi invita a staccarvi, anzi anche questa ci metterei vicino, vi invita a staccarvi dalla vostra zona di comfort, se vogliamo, o dalla vostra zona di residenza attuale, anche dal vostro modo di pensare attuale, può essere visto anche come un cambio, un distacco, diciamo, da un punto di vista un po' più astratto, più che fisico, però comunque vi invita a creare la vostra famiglia, la vostra tribù, appunto. Questa carta è una carta che è come se vi dicesse che il destino sta piano piano lavorando per portarvi sulla giusta strada. Vi ricordo che avete la carta del matto, carta di nuovi inizi, carta di nuove avventure, di entusiasmo, di fiducia per la vita, in un certo senso è una carta di colui che si lascia guidare dal cielo, e richiama moltissimo questa carta, questa carta qui. Ragazzi, è un po' come essere al momento giusto, nel posto giusto, ok? Anche se voi magari in questo momento non avete ben chiaro il perché ci siano certe questioni, ma fidatevi che è l'universo che sta lavorando per voi. Andiamo a vedere ancora una carta, una meditazione di Fingon, che sono meditazioni canalizzate. Ne abbiamo un sacco, andiamo a vederle tutte. Noi siamo un tutt'uno, il pianeta è uno, ci fondiamo nell'unitarietà di tutto il creato. Io sono ciò che sono, La nostra vita è una con Dio. Noi siamo uno. I nostri cuori battono al ritmo dell'unità. Siamo in sintonia con la vita intera. Siamo in sintonia con l'infinito. E vi faccio notare che la carta numero 8, il numero 8 se si mette nell'altro senso, è il simbolo dell'infinito. Wow, bellissimo. Poi abbiamo, non so do metterla, La fede è vuota senza le opere. Interessante, perché è proprio quello che dicevamo, qui c'è il matto, la fiducia, ma bisogna anche poi passare all'azione. Vivi e dimostra la tua fede, sicché tutti possano vedere cos'è davvero importante per te. Quanto si rinforza quando la metti in pratica. Da prima in circostanze determinate e poi a poco a poco in ogni aspetto della tua vita. Wow, il matto parla proprio di fiducia, ragazzi. Abbiate fiducia nella vita, nel destino e nelle vostre possibilità, capacità. Puoi trascendere la negatività quando ti rendi conto che il suo solo potere su di te è dovuto al fatto che ci credi. La mente crea. Quando sperimenti la verità su di te, allora sei libero. Rendi continuamente grazie per la consapevolezza della verità e segui questa strada. Ragazzi del Capricorno, guardate, veramente, bellissimi messaggi, bellissima seconda parte dell'anno. Abbiate fede, con fiducia. Con fiducia, approcciatevi ai nuovi inizi che arriveranno, ai distacchi e ai cambi anche di mentalità che andrete vivendo in questa seconda parte del 2023. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le prossime energie. Come vi ho già accennato all'inizio, ci saranno poi dei video di approfondimento. Se comunque il video è stato utile, potete farmelo sapere con un like. Se volete sostenere il canale, potete comunque iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione, abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi auguro una seconda parte dell'anno splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!